Buon lunedì e ben ritrovati. Inizio di primavera all'insegna della pioggia in provincia di Trapani dove la scorsa notte ha anche fioccato in alta quota in due giorni. Nel capoluogo sono caduti circa 52 mm di pioggia. Vediamo il servizio di Mario Torrente. Questa mattina Montesparaggio, la montagna più alta della provincia di Trapani con i suoi oltre 1110 metri di altezza, si è svegliata in biancata con la neve già dalle parti del bosco del Giacolamaru arrivando fino alla cima, regalando una suggestiva immagine da diversi angoli del territorio. E ieri si era fioccato anche ad Erice, ma le vie selciate del centro storico, nonostante il gelito vento di Grecale, non si sono riempite di neve. Nel Trapanese, dove per tutta la giornata di ieri c'è stata l'allerta a meteo arancione, nel fine settimana ha piovuto davvero tanto. E' stato insomma l'inizio di primavera all'insegna del maltempo con abbondanti precipitazioni. Tra sabato e domenica si stimano ben 52 mm di pioggia, di cui quasi 35 mm solo nella giornata di ieri, 18 mm sabato. In quasi una settimana, in base ai dati dell'aeronautica, è caduta qualcosa come 79 mm di acqua, di cui mezzo metro solo in due giorni. Insomma una pioggia record in questo anomalo inizio di primavera con cielo grigio e freddo. Non si sono comunque registrati particolari disagi. In via Marconi ieri sera sono saltati dei tombini, come spesso avviene in caso di pioggia abbondante. Sul posto sono intervenuti la squadra della protezione civile del comune di Erice e i vigili del fuoco. A Trapani c'è stato qualche allagamento a Rione Cappuccinelli, dove un fulmine ha fatto saltare la stazione di sollevamento del quartiere, che è subito partita dopo essere stata ripristinata. Per il grande quantitativo d'acqua, nella notte tra sabato e domenica, c'è stato anche il momentaneo blocco della stazione di sollevamento di via Tunisi, causando qualche allagamento a macchia di leopardo in città. Situazione comunque subito rientrata nella normalità. A tra poco con tutte le altre notizie. Covid-19 curva in lieve crescita. Il confronto dei dati delle ultime settimane registra un aumento degli accertati positivi, che deve essere interpretato come un campanello d'allarme. Violazioni anti-Covid-13, sanzioni. I carabinieri hanno individuato due feste private, una a Marsala e una a Castelvetrano. Bando fotocopia. Avviso pubblico del luglio musicale per un esperto di comunicazione, Malente ha già un contratto con un professionista, richiesta di revoca della consigliera Garuccio. Macari, due trapanesi nella terza puntata. Paisaggi e luoghi noti, ma anche volti nella fiction girata in provincia, debutto per Floriana Poma e una parte per l'attrice Simona Di Bella. Per il basket Granata sconfitti, la 2B contro il Trapani, nell'anticipo di sabato, ha perso il confronto con la Tezenis Verona. Una piacevole gara al Palaconad, che però non ha prodotto i due punti per i trapanesi. E nell'approfondimento, l'opinione di Gaspare Panfalone, vicepresidente di Asamar Sicilia, l'Associazione degli agenti marittimi, circa l'ipotesi di un parco eolico offshore a largo delle Egadi. Ben ritrovati l'andamento della curva epidemiologica in provincia di Trapani e in lieve crescita, un dato non ancora preoccupante, ma che deve comunque indurre alla prudenza. Nella settimana, dal 14 al 20 marzo, in provincia di Trapani, sono stati registrati 197 nuovi casi di positività al virus SARS-CoV-2. Nessuno di questi, per quel che ci è dato sapere, legato alle nuove varianti. Nella settimana precedente, dal 6 al 12 marzo, i casi furono 158. Andando ancora indietro, nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo, i nuovi casi furono 95. E in quelle ancora prima, rispettivamente 104 e 94. In questo andamento, il nostro Rino Candia, chimico-statistico che per la nostra emittente cura la pagina covidnews.telesuduweb.it, legge un chiaro campanello d'allarme, che peraltro era già rilevabile quando si è passati da meno di 100 casi a settimana ai 158 di due settimane fa. Il dato della scorsa settimana, 197 nuovi positivi, è praticamente il doppio rispetto a 14 giorni fa. Non è una tragedia, sostiene il Rino Candia, ma è un aumento troppo veloce per non meritare attenzione, considerato che in provincia abbiamo ancora numeri simili alla Sardegna, che però, non è un caso, abbia appena perso la zona bianca. Secondo Candia, lo studio degli andamenti epidemiologici serve a comprendere se da qualche parte c'è un numero anomalo di casi, compito di un epidemiologo o di uno statistico, in modo che chi si occupa di sanità pubblica vada subito a controllare. Solo così si evita che esplodano focolai, o almeno si bloccano subito. Un aspetto che, secondo il nostro esperto, viene sottovalutato a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale, indistintamente. I dati utilizzati da Candia, pubblicati sulla pagina covidnews.telesudweb.it e in questo servizio, sono dati aperti, liberi e ufficiali della Protezione Civile Nazionale. Ancora sanzioni elevate dai carabinieri per il mancato rispetto delle disposizioni anti-covid, scoperte due feste private, una a Marsala, una a Castelvetrano. La presenza anomala di molte macchine parcheggiate nei pressi di un'abitazione, incontrata a Lasagna, a Marsala, ha fatto scattare sabato sere controlli. I carabinieri della stazione di San Filippo, giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza di sette persone non conviventi che si erano riunite all'interno dell'abitazione per festeggiare una ricorrenza. Una situazione analoga è stata accertata anche dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano, che nel corso di un servizio di pattuglia, tra sabato e domenica, sono intervenuti in una casa privata del centro cittadino dopo aver udito dall'esterno musica ad alto volume e schiamazzi. Dentro l'appartamento sono stati identificati sei giovani, di cui due ancora minorenni, intenti a fare una spaghettata notturna e a consumare alcolici. Data la violazione delle limitazioni imposte dalla legge, a tutti i partecipanti alle feste private immediatamente interrotte, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 400 euro ciascuno. Le disposizioni infatti prevedono che solo due persone conviventi con minori di 14 anni e disabili si possono spostare una volta al giorno per andare a casa di parenti. I controlli del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare il rispetto delle distanze di sicurezza, l'uso della mascherina e il divieto di assembramento. Il sindacato degli infermieri Nursind denuncia il diniego dell'ASP di Trapani all'accesso agli atti relativi al nuovo ospedale di Alcamo. Vediamo. L'ASP di Trapani ha negato, secondo il sindacato Nursind, inspiegabilmente, l'accesso agli atti ad alcune procedure relative alla progettazione del nuovo ospedale di Alcamo. La segreteria territoriale del sindacato aveva chiesto una serie di documenti per monitorare lo stato di avanzamento dell'Iter. Nella prima fase della richiesta l'ASP ha fornito i chiarimenti e la documentazione in suo possesso come da legge. Successivamente, richiedendo lo stato di avanzamento dei lavori, il commissario straordinario Paolo Zappalà ha motivato il diniego sostenendo che il Nursind in sostanza non ha alcun interesse diretto e assicurando che l'amministrazione ha già effettuato le verifiche antimafia propedeutiche alla stipula del contratto d'appalto con le ditte a giudicatari. Per il segretario territoriale del Nursind, salvo Calamia, è una situazione anomala e rivendica l'azione sindacale di aver contribuito ad accendere i riflettori, a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini su un progetto fondamentale per la tutela della salute di un vasto comprensorio, progetto che purtroppo pare continuare a procedere a rilento. A fronte di questo impegno, denuncia il Nursind, l'aspe di Trapani ritiene di non dover dare massima pubblicità agli atti del procedimento, peccando di poca trasparenza. Il Nursind annuncia eventuali azioni da intraprendere coinvolgendo sindaci, assessori, consiglieri comunali, deputati del comprensorio, sostenendo di volere fare della trasparenza una forza motrice delle opere pubbliche. Facciamo una pausa, tra poco. Bando fotocopia, avviso pubblico del luglio musicale per un esperto di comunicazione, ma l'ente ha già un contratto con un professionista richiesta di revoca della consigliera Garuccio. Macari due trapanesi nella terza puntata, a paesaggi e luoghi noti, ma anche volti nella fiction girata in provincia, debutto per Floriana Poma e una parte per l'attrice Simona Di Bella, e poi nello sport parleremo della sconfitta della pallacanestro Trapani contro Verona. Ben ritrovati, la gestione del luglio musicale trapanese appare ogni giorno più confusa, come dimostra la vicenda dei due avvisi pubblici, uno per addetto stampa e l'altro un consulente per la comunicazione. Vediamo. L'avviso per consulente alla comunicazione è sovrapponibile ad un avviso dello scorso anno che, di fatto, ha già dotato l'ente luglio musicale trapanese di questa professionalità. Alla luce di questo fatto, la consigliera Anna Garuccio ha chiesto il ritiro dell'avviso esplorativo. Risulta, infatti, che già il 13 luglio del 2020, il luglio musicale aveva pubblicato un avviso per la ricerca di un consulente di comunicazione e immagini, e che sulla base di quell'avviso l'incarico fu affidato per due anni, con decorrenza dal luglio 2020 e dunque fino a luglio del 2022, ad una professionista trapanese, Pia Marchingiglio. L'avviso non obbligava l'ente a contrattualizzare senza soluzione di continuità per l'intero arco temporale sopraindicato, ma in funzione delle attività stagionali dell'ente. Dunque, oggi appare legittimo chiedersi perché il luglio musicale non si rivolga a una professionalità con la quale ha già un rapporto in essere. Oggi siamo al 22 marzo e in linea teorica, ad incarico non ancora affidato, il vincitore del nuovo avviso dovrà ideare e creare un concept da declinare su vari supporti online e offline, da svolgere e a regola d'arte e consegnato non oltre il 30 marzo 2021. Mancano otto giorni a questa deadline e dentro questa data il nuovo professionista dovrà aver prodotto una campagna di comunicazione, realizzato i video di campagna, due per il web da 15 secondi e due per la tv da 5 e 10 secondi, aver creato un sito web del concorso internazionale di Giuseppe Di Stefano e servizi accessori in due lingue, italiano e inglese. Dovrà inoltre garantire tra le 100.000 e le 150.000 visualizzazioni video a fine campagna. La consigliera Garuccio ha chiesto risposta per iscritto alla sua nota. Siamo curiosi di sapere chi riuscirà a raggiungere per primo il risultato richiesto entro il 30 marzo, se il neoconsulente a produrre la campagna di comunicazione o lente luglio e l'amministrazione comunale a rispondere alla consigliera Garuccio. Pubblicato oggi sul sito dell'ATM del Comune di Trapani l'avviso di selezione pubblica per titoli per l'assunzione di otto autisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tra i requisiti di ammissione il diploma di licenza media, il possesso della patente D o D E e della carta di qualificazione del conducente, nonché l'idoneità fisica alle mansioni di operatore di esercizio. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 aprile. L'assunzione degli otto autisti rientra nel piano industriale 2019-2021. Adesso parliamo di Macari, due volti trapanesi nel cast della terza puntata della Fiction in onda questa sera su Rai 1. Sono quelli di Floriana Poma e di Simona Di Bella. Si intitola è solo un gioco, il terzo episodio della miniserie tv in onda questa sera su Rai 1 che vede protagonista l'attore Claudio Gioè nei panni del detective per caso Saverio Lamanna. Nel cast farà il suo esordio, un bel volto trapanese, quello di Floriana Poma, 25 anni, che interpreta il ruolo di Alida, un attivista ribelle. Macari, frazione del comune di San Vitolo Capo che dà il nome alla Fiction, è un luogo caro all'ex concorrente di Amici, laureanda in letteratura, arte, musica e spettacolo a Roma. Un luogo dove ha trascorso tante delle sue estati a casa della nonna e che oggi sancisce il suo debutto da attrice. Altra trapanese già nota al grande pubblico per aver interpretato per ben tre stagioni, Assuntina, la figlia di Nino Frassica in Don Matteo e Simona Di Bella, l'attrice interpreterà il ruolo di Manuela. Appuntamento dunque con la terza puntata di Macari, la serie tv tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, diretta da Michele Suavi e prodotta dalla Palomar, che grande visibilità sta dando alla nostra provincia, grazie al lavoro del location manager Ivan Ferrandez e alla Trapani Film Commission. Dopo il successo delle prime due puntate, seguite complessivamente da circa 14 milioni di spettatori, si continua a parlare di Macari anche in tante trasmissioni del mattino e del pomeriggio della RAI, con le splendide immagini di Baia Santa Margherita, Torre di Ligny e le Saline, a fare da sfondo alle storie dei suoi protagonisti, già molto amati dal pubblico. Una pubblicità importantissima in termini di promozione turistica. La programmazione di oggi sulla nostra emittente alle 21 e alle 23 andrà in onda una nuova puntata di Respubblica Sicilia Chiama Europa. Saranno ospiti del direttore Nicola Baldarotta, nella prima parte Nicola Dragna, capodelegazione di Fai Trapani e nella seconda l'imprenditore Gaspare Panfalone. Vi ricordo il nostro sito telesudweb.it, adesso diamo uno sguardo al meteo e poi noi ci rivediamo con lo sport. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo nuvoloso con vento di Grecale e piogge modeste. Il mare sarà molto mosso e le temperature saranno comprese fra i 10 e gli 11 gradi. In serata è previsto ancora cielo nuvoloso con vento di Tramontana e piogge modeste. Il mare sarà molto mosso e le temperature rimarranno stabili sui 9 gradi. Per domani mattina ancora previsto cielo nuvoloso con vento da nord e piogge modeste. Il mare sarà molto mosso e le temperature saranno comprese fra i 10 e gli 11 gradi. Per domani pomeriggio previsto invece cielo sereno con mare agitato e vento di Tramontana. Le temperature saranno comprese fra i 9 e i 10 gradi. Iniziamo dal basket. La 2B contro il Trapani nell'anticipo di sabato ha perso il confronto con la Tezenis Verona. Una piacevole gara al Palaconad che però non ha prodotto i due punti per i trapanesi. E' terminata con il punteggio finale di 69 a 81 la gara di sabato sera al Palaconad. La 2B contro il Trapani ha perso così il confronto con la Tezenis Verona che ha meritato il successo ed ha dimostrato di essere una delle formazioni più attrezzate del girone verde del campionato di Serie 2 All the Wild West. Un match assai godibile in cui però i Granata non sono riusciti ad emergere. La Palaconestro Trapani infatti non è riuscita ad arginare lo strapotere di Francesco Candussi, vero protagonista dell'incontro e autore di 20 punti in altrettanti minuti di gioco. Le azioni spettacolari di Corbett e Miller non sono state sufficienti per conquistare i due punti. Per gli uomini di coach Daniele Parente si tratta della seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata a Mantua. Gare perse in cui è mancata la lucidità nella costruzione offensiva. Lucentezza che la formazione Granata avrà tempo per ritrovare. Mancano tre partite da qui al termine della stagione regolare con un match da preparare per ogni singola settimana. Siamo partiti fluidi in attacco, al di là dei tiri segnati ma la palla si è mossa, abbiamo fatto le scelte giuste e sapevamo di incontrare una squadra molto profonda che vengono da 5 vittorie, è una squadra che va nei primi posti della classifica e se finirà e entrerà in playoff in zona alta sarà un problema affrontarla per tutti. La differenza poi si è palesata nel terzo e quarto quarto dove le rotazioni secondo me hanno fatto la differenza. Loro non sono mai calati di intensità soprattutto in difesa e la differenza è stata che hanno una pazienza in attacco incredibile, hanno punito ogni mismatch e sanno esattamente dove andare nei momenti che conta della partita. Ci abbiamo provato ma tutte le volte che abbiamo alzato in difesa abbiamo perso un po' di lucidità in attacco, era impensabile ritirare con quelle percentuali. Dobbiamo essere bravi a imparare a giocare contro di loro perché queste partite servono a capire che ogni possesso ha un peso specifico enorme, che quando facciamo uno sforzo grande in difesa bisogna cercare di concretizzare in attacco e bisogna capire il ritmo della partita. Ecco, questo credo che se Verona ci ha insegnato qualcosa è stato proprio il ritmo. Hanno accelerato quando dovevano ma a metà campo sono stati veramente bravi a andare dove volevano. Il calcio rinviata per maltempo la partita di ieri tra San Luca e Dattilo. I biancoverdi fanno ritorno in città per preparare la sfida di mercoledì. Il servizio di Federico Tarantino. Non si è giocata ieri la partita di Serie D tra San Luca e Dattilo. Le pessime condizioni del terreno di gioco hanno reso impossibile il regolare svolgimento del match. Un violento nubifragio ha colpito infatti la località Calabra dove era prevista la gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie D. Il campo presentava diverse zone fangose e piene anche d'acqua piovana. Costatato il maltempo, il direttore di gara insieme ai due capitani ha deciso di rinviare il match a data da destinarsi. Si è giocato comunque negli altri campi. Il Dattilo, nonostante lo stop forzato, resta agganciato al treno playoff, ma non avrà tante occasioni per poter sbagliare. La lotta per le zone nobili della classifica del Gironei infatti è assai agguerrita. I biancoverdi intanto hanno fatto già rientro in città e si apprestano a preparare la partita di mercoledì, quando al provinciale verrà recuperata la sfida contro la cittanovese che ieri ha pareggiato l'incontro contro il Licata. Sull'ipotesi di un parco eolico offshore a largo delle isole Egadi interviene anche l'imprenditore trapanese Gaspare Panfalone, vicepresidente della Asamar Sicilia, associazione degli agenti marittimi. Il progetto Renexia è stato approvato dalle associazioni ambientaliste più importanti a livello nazionale e quindi ritengo che si debba riflettere sul vantaggio economico molto consistente che potrebbe avvenire. Considerato il ragionamento che si fa sui progetti offshore per cui gli enti locali prendono delle royality rispetto all'energia prodotta, ritengo che questo grande progetto offshore possa garantire al territorio un vantaggio economico veramente consistente. Considerate che questo progetto se lo misuriamo, se abbiamo un'unità di misura che ci sfugge, equivale da due a tre centrali nucleari, quindi immaginate quanta energia venga prodotta. E quindi io ritengo che nel rispetto di tutti i soggetti, di tutte le attività economiche, al primo posto quella dei pescatori, se si ragiona secondo dei criteri scientifici, cioè se ogni argomentazione è supportata da uno studio scientifico, ritengo che sia un'occasione da non perdere ed in ogni caso un'occasione economica e imprenditoriale che deve tenere conto delle esigenze del territorio, della portata del progetto stesso che ricordiamo è perfettamente coerente al recovery plan e ai fondi che vengono dal recovery stesso. Quindi ritengo che tutta questa vicenda debba essere trattata con un'attenzione particolare ed un'attenzione che tenga conto degli studi di settore come quello che riguardano i trasporti marittimi che andrebbero a passare in questa area o anche a ritorni turistici, turistici economici che possono derivare dalla visita su questa area stessa e da tante altre occasioni che a mio modo di vedere questo territorio non può perdere. Ben ritrovati con la seconda edizione del nostro notiziario. Otto gazebo per accogliere i cittadini in attesa del vaccino sono stati collocati dal comune accanto all'ingresso del lab vaccinale inaugurato la scorsa settimana nella struttura di Via Salemi. Consentiranno ai utenti, spiega in una nota il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, di ripararsi dalla pioggia o dal sole e di attendere il proprio turno comodamente. La struttura concessa dal comune alla regione ed intesa con il commissario dell'ASP è dotata delle caratteristiche richieste dall'assessorato alla salute, quali agibilità, parcheggio interno alla recinzione, spazi all'esterno, abbattimento delle barriere architettoniche e ampi locali con servizi igienici. E nel prossimo servizio vediamo come va l'andamento dei contagi in provincia di Trapani. Nella settimana dal 14 al 20 marzo in provincia di Trapani sono stati registrati 197 nuovi casi di positività al virus SARS-CoV-2. Nessuno di questi, per quel che ci è dato sapere, legato alle nuove varianti. Nella settimana precedente, dal 6 al 12 marzo, i casi furono 158. Andando ancora indietro, nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo, i nuovi casi furono 95 e in quelli ancora prima rispettivamente 104 e 94. In questo andamento, il nostro Rino Candia, chimico-statistico che per la nostra emittente cura la pagina covidnews.telesuduweb.it, legge un chiaro campanello d'allarme, che peraltro era già rilevabile quando si è passati da meno di 100 casi a settimana ai 158 di due settimane fa. Il dato della scorsa settimana, 197 nuovi positivi, è praticamente il doppio rispetto a 14 giorni fa. Non è una tragedia, sostiene Rino Candia, ma è un aumento troppo veloce per non meritare attenzione, considerato che in provincia abbiamo ancora numeri simili alla Sardegna, che però, non è un caso, abbia appena perso la zona bianca. Secondo Candia, lo studio degli andamenti epidemiologici serve a comprendere se da qualche parte c'è un numero anomalo di casi, compito di un epidemiologo o di uno statistico, in modo che chi si occupa di sanità pubblica vada subito a controllare, solo così si evita che esplodano focolai o almeno si bloccano subito. Un aspetto che, secondo il nostro esperto, viene sottovalutato a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale, indistintamente. I dati utilizzati da Candia, pubblicati sulla pagina covidnews.telesudweb.it e in questo servizio, sono dati aperti, liberi e ufficiali della Protezione Civile Nazionale. Ancora sanzioni elevate dai carabinieri per il mancato rispetto delle disposizioni anti-covid, scoperte, feste private a Marsala e Castelvetrano. La presenza anomala di molte macchine parcheggiate nei pressi di un'abitazione incontrata a Lasagna a Marsala ha fatto scattare sabato sere controlli. I carabinieri della stazione di San Filippo, giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza di sette persone non conviventi che si erano riunite all'interno dell'abitazione per festeggiare una ricorrenza. Una situazione analoga è stata accertata anche dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Castelvetrano che nel corso di un servizio di pattuglia tra sabato e domenica sono intervenuti in una casa privata del centro cittadino dopo aver udito dall'esterno musica ad alto volume e schiamazzi. Dentro l'appartamento sono stati identificati sei giovani di cui due ancora minorenni intenti a fare una spaghettata notturna e a consumare alcolici. Data la violazione delle limitazioni imposte dalla legge a tutti i partecipanti alle feste private immediatamente interrotte sono state levate sanzioni amministrative per un importo di 400 euro ciascuno. Le disposizioni infatti prevedono che solo due persone conviventi con minori di 14 anni e disabili si possono spostare una volta al giorno per andare a casa di parenti. I controlli del comando provinciale dei carabinieri di Trapani lo seguiranno anche nei prossimi giorni per verificare il rispetto delle distanze di sicurezza, l'uso della mascherina e il divieto di assembramento. Nel prossimo servizio vi proponiamo le immagini di questo insolito avvio di primavera. Questa mattina Montesparaggio, la montagna più alta della provincia di Trapani con i suoi oltre 1110 metri di altezza, si è svegliata in biancata con la neve già dalle parti del bosco del Giacolamaro arrivando fino alla cima. regalando una suggestiva immagine da diversi angoli del territorio. Ieri si era fioccato anche ad Erice, ma le vie selciate del centro storico nonostante il gelito vento di Grecale non si sono riempite di neve. Nel Trapanese, dove per tutta la giornata di ieri c'è stata l'allerta a meteo arancione, nel fine settimana ha piovuto davvero tanto. È stato insomma l'inizio dei primaveri all'insegna del maltempo con abbondanti precipitazioni. Tra sabato e domenica si stimano ben 52 mm di pioggia, di cui quasi 35 mm solo nella giornata di ieri, 18 mm sabato. In quasi una settimana, in base ai dati dell'aeronautica, è caduta qualcosa come 79 mm di acqua, di cui mezzo metro solo in due giorni. Insomma, una pioggia record in questo anomalo inizio di primavera con cielo grigio e freddo. Non si sono comunque registrati particolari disagi. In via Marconi ieri sera sono saltati dei tombini, come spesso avviene in caso di pioggia abbondante. Sul posto sono intervenuti la squadra della protezione civile del comune di Erice e i vigili del fuoco. A Trapani c'è stato qualche allagamento a Reone Cappuccinelli, dove un fulmine ha fatto saltare la stazione di sollevamento del quartiere, che è subito partita dopo essere stata ripristinata. Per il grande quantitativo d'acqua, nella notte tra sabato e domenica, c'è stato anche il momentaneo blocco della stazione di sollevamento di via Tunisi, causando qualche allagamento a Macchia di Leopardo in città. Situazione comunque subito rientrata nella normalità.